Atletica, Mondiali Londra 2017, il programma di batterie semifinale di giovedì Giornata importante, a Londra, per i colori italiani. Diversi azzurri protagonisti nel pomeriggio. Nell'alto, l'esordio di Alessia Troste ed Erika Furlani. Alla prima si chiede l'approdo in finale, la seconda deve sfruttare il palcoscenico per fare esperienza e dare sostanza alla sua crescita personale. La Troste nel secondo gruppo, con l'Ikvinko, le Kenko, Beitia, attenzione all'esperienza della spagnola, e soprattutto la Zitzkene. La russa sembra non avere avversari e nella corsa a loro, punta addirittura al primato mondiale. Nel primo gruppo, invece, la Furlani, accompagnata da Cunningham, Palsite, o Cuneva e Unfleitch. La Sant'Iusti deve sgomitare negli 800. Si trova nella quarta di sei batterie, presidiata dalla Vambui. Torna in pista Caster Semenia, già a medaglia nei 1500. Donna copertina la sudafricana, oro annunciato su questa distanza. A complicarle il cammino, Vison, 15561 in stagione, è nella prima batteria, Bisop, nella seconda, Lipsei e Sum, nella quinta, e Nijon Sabba, nella sesta. Nei 5000, sempre al femminile, pronto il bis della Iana. Problemi fisici in stagione, interrogativi cancellati dalla solitaria recita dei 10.000. Corre nella prima di due batterie, con Teferi, Muir, quarta e beffata nei 1500, Caneobiri. La Keniana, incantevole al Golden Gala di Roma, può giocare il ruolo decisivo nella gara, è chiaramente da medaglia. Nella seconda, una di Baba in evidente difficoltà fin qui. Campanello d'allarme nella semifinale dei 1500, finale poi in chiaro-oscuro, nelle retrovie. Deve rispondere da fuoriclasse. Congenzebbe, Hassan, Gidei e Kit Ken Boy. Campo aperto nei 1500 al maschile. Chi propion è il dominatore di altre stagioni, non parte da n.1. Il connazionale Manangoi ha le carte in regola. Nella prima batteria, i due sfidano Mechissi, quarto nei 3000 siepi, Centrovitz, Iguideri e Lewandowski. Nella seconda, Mikowek-Vemoi, uno da 330, nell'ultima Kerouillot. Torno di qualificazione nel giavellotto maschile. Duello teutonico, Vetter, Roller, il secondo e il terzo di sempre nella specialità. Vetter, 94.44, è nel gruppo A, con Veseli, Iego e l'eterno Pit Kamati. Roller nel B, con Vacotte e Vadleic tra gli altri. Infine, semifinali dei 200 donne. Skippers, una delle favorite, subito in pista, lotta con la Stevens. Miller, incredibilmente a secco sul giro di pista, a seguire, con Lucane Kambunde. Usher Smith e Dallu al tramonto. 19 e 30 W 5000 metri seats 20 e 5 M Javelin tro qualificati un gruppo A 20 e 10 W Iump qualificati un 20 e 25 W 800 metri seats 21 e 25 M 1500 metri seats 21 e 35 M Javelin tro qualificati un gruppo B 22 e 5 W 200 metri semifinal. Finale. Finale. Finale.